Il TAR ha accolto il ricorso di Luca Innocenzi e annullato il daspo della questura di Perugia che aveva previsto il divieto di avvicinamento del Cavaliere Professionista per un anno al campo degli giochi la struttura che ospita ogni anno la Quintana di Foligno. Il provvedimento era stato preso in riferimento all'episodio accaduto domenica 4 giugno che aveva visto Innocenzi partecipare ad una vissa. Il giudice amministrativo nella sentenza ha stabilito che considerato che il provvedimento prefettizio impugnato preclude al ricorrente la partecipazione come concorrente alla manifestazione sportiva equestre di interesse storico della giosta della Quintana e che rappresenta insieme all'evento similare di Ascoli Piceno una percentuale significativa della propria attività professionale viene accolta la domanda cautelare che sospende il provvedimento impugnato in riferimento alle modalità necessarie per consentire la partecipazione alla ricorrente della manifestazione della giosta della Quintana di Foligno come Cavaliere Professionista. Intervento dei carabinieri a Perugia per una lite scoppiata tra giovanissimi davanti ad un ristorante McDonald's. Nella circostanza un 49enne si è avvicinato per separare i ragazzi per poi essere aggredito da tre giovani che partecipavano alla rissa. Denunciati per il reato di lesioni personali in concorso un 19enne e un 16enne già noti alle forze di polizia. I lavori per la nuova ferrovia centrale Umbra saranno conclusi entro l'estate del 2024. La conferma arriva dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti della regione dell'Umbria Enrico Melasecche. Il risultato sarà la riattivazione totale della linea storica che parte dalla Toscana a Sansepolcro e termina a Terni per un totale di 95 chilometri per le due tratte Ponte San Giovanni Terni e città di Castello Sansepolcro. La partenza del cantiere prevista per settembre fa sapere Melasecche dopo un confronto con l'ammisatore delegato della Salcef SPA, l'impresa che ha vinto la gara per la sostituzione dell'armamento ferroviario che si è svolta nel giugno scorso per un valore di 70 milioni di euro. La pulizia dei binari sarà uno dei primi interventi per poi procedere alla sostituzione della massicciata, delle vecchie traversine e dei binari con quelli moderni 1 in 60 che garantiscono maggiore sicurezza. Approvato il bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa dell'Umbria per gli anni 2023, 2024 e 2025 nella seduta di venerdì. Come spiegato nella relazione di Daniele Nicchi, presidente della prima commissione, sono garantiti e permangono gli equilibri del bilancio di previsione di competenze di cassa relativi agli anni in questione. Il provvedimento non prevede variazioni rispetto ai residui attivi e c'è stata una diminuzione dei passivi di 86 mila euro. 8 milioni 912 mila euro è il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 con un avanzo libero di quasi 4 milioni di euro. L'avanzo accantonato, che ammonta circa 1,5 milioni, viene distribuito in più capitoli. Spese per il personale, programma triannale dei lavori pubblici, ammodernamento delle infrastrutture informatiche e l'installazione di tecnologie avanzata nelle sale di vita e riunioni. Destinate ad altri programmi le spese che vengono previste per dicembre in riferimento ad attività programmate che non sono state realizzate o spostate in altri programmi. In questo caso l'importo di 342 mila euro per quanto attiene la convenzione con l'università, i patrocini, le spese gestionali, le procedure concursuali, la formazione del personale, del fondo per spese obbligatorie, 40 mila euro, previsto a titolo cautelativo. Prevista anche una diminuzione delle spese per il personale. L'Umbria si pone al primo posto per copertura vaccinale degli over 65 e al secondo posto sul totale della popolazione relativamente al mese di luglio 2023. È quanto emerge dai dati divulgati dal Ministero della Salute relativi alla copertura della popolazione con vaccinazione anti-influenzale. Lo rende noto l'assessore alla salute della Regione dell'Umbria, Luca Coletto, precisando che attualmente risulta coperta con vaccino anti-influenzale il 68% della popolazione di cittadini che hanno compiuto 65 anni, mentre la percentuale di copertura sulla popolazione totale è del 23,6%. L'assessore esprime soddisfazione per questo risultato che dimostra ancora una volta la grande attenzione degli Umbri verso questa forma di prevenzione che protegge da una parte se stessi ma contribuisce in maniera determinante a proteggere anche le persone più fragili con i quali si dividono gli spazi. L'assessore ha quindi ricordato che la Regione dell'Umbria, attraverso Punto Zero, ha concluso il procedimento amministrativo che ha portato ad aggiudicare la gara per i vaccini anti-influenzali Campagna Vaccinale 2023-2024, per i vaccini riservati alla fascia di età 6 mesi 64 anni, con un risparmio a livello regionale di circa 220.000 euro. Due parchi inclusivi nelle aree verdi di Pian di Massiano e Sant'Anna e attrezzature adatte a persone con disabilità presso l'impianto sportivo Santa Giuliana. Sono i due progetti che il Comune di Perugia, su proposta dell'assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, intende realizzare con le risorse provenienti dal Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. La zona sociale numero 2 comprende anche Corciano e Torgiano, con Perugia capofila, e ha manifestato la volontà di utilizzare una parte delle risorse del fondo assegnata alla Regione dell'Umbria anche nel complesso, che ammontano a circa 985.000 euro. La Giunta Comunale di Perugia ha ratificato la relativa manifestazione di interesse nella seduta del 26 luglio scorso. Per il capoluogo Umbro, le progettualità riguardano un parco inclusivo con attrezzature ludiche, pavimentazioni antitrauma, e drenante e viabilità di accesso percorribile anche dai bambini con difficoltà motorie, presso il parco di Pian di Massiano, per un importo complessivo di 96.371 euro, e un altro parco con le stesse caratteristiche all'interno di quello di Sant'Anna, per un importo complessivo di 51.065 euro, oltre che all'implementazione presso l'impianto Santa Giuliana, di una servoscala con pedana ribaltabile e lavori accessori, l'acquisto di due handbike e attrezzature da palestra adattabili a soggetti con disabilità, per un importo complessivo di 47.000 euro. Nell'ambito dell'indirizzo strategico di Terni, città turistica, la Giunta Comunale ha approvato due atti per rafforzare la presenza dei visitatori. Il primo riguarda la riqualificazione e l'animazione economica dell'ospitalità diffusa nei borghi delle antiche municipalità del territorio comunale. Il secondo, l'adesione al progetto Il Cammino dei primi Francescani della Fondazione Terra Santa di Milano, per la valorizzazione dei luoghi legati ai protomartiri francescani del comprensorio turistico Ternano. Per quanto attiene l'ospitalità diffusa, l'amministrazione comunale, dichiare il vice sindaco con delega al turismo Riccardo Corridore, intenderà forzare le proprie strategie di promozione turistica e di miglioramento economico del territorio, al fine di attivare un graduale percorso di cambiamento nei borghi, un cambiamento destinato a produrre esperienze positive sia verso i residenti che verso i visitatori. L'amministrazione intende fungere da stimolo e facilitatore di processo, recuperando gli immobili sfitti da destinare ad attività turistico-ricettiva diffusa, nelle modalità di legge consentite tramite un percorso condiviso. In prima battuta si intende acquisire la dimensione del fenomeno mediante la raccolta delle manifestazioni di interesse dei rispettivi proprietari per realizzare una mappatura-censimento degli immobili possibili, previa anche la verifica della conformità urbanistica, architettonica e di destinazione e classificazione turistica. Approvato, infine, dalla giunta delle sindaco Stefano Bandecchi, anche il contributo di 2.500 euro al progetto che riguarda il percorso dei primi francescani. Continua il viaggio delle festival internazionale Green Music che ogni volta fa scoprire ai suoi numerosi ospiti, splendide ambientazioni totalmente immerse nel verde. Per la serata di mercoledì 26 luglio il festival ha avuto come location il Teatro dei Cipressi a Umbraflor, la più grande realtà di produzione vivaistica dell'Umbria. In questo splendido luogo è stato messo in scena il recital Baci International Tour 2023-2024, a cui hanno preso parte le pianista Morizio Mastrini, gli attori Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni e un'orchestra d'archi. Una suite di brani che descrivono l'amore a 360 gradi nella sua concezione più ampia. Un'ognone profonda e viscerale, quella che lega il maestro Mastrini al suo strumento, così come è profondo il legame tra due innamorati che si scambiano un bacio, così come si sente intenso il legame con la terra seduti su balle di fieno e circondati dal verde degli alberi. La serata presentata da Nando Tucci è iniziata con i saluti della Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dell'Avvocato Matteo Gian Bartolomei, che lieto di partecipare per il secondo anno di fila al Festival, ha ringraziato il maestro Mastrini per l'idea di realizzare un teatro di cipressi, da sempre un punto forte della sua azienda Umbraflor. È con immenso piacere che oggi pomeriggio diamo il benvenuto al nostro nuovo allenatore Francesco Baldini, del quale siamo orgogliosi. La scelta è ricaduta su Francesco per le qualità umane, per l'identità di gioco, per il fatto che storicamente è stato un nostro giocatore, quindi conosceva il nostro ambiente e perché ha un grande staff e un'identità di gioco che è ciò che ricercavamo. Quindi rispondeva a tutti i nostri criteri di selezione. Ci siamo scelti, Jacopo e il Presidente sono stati molto bravi, Jacopo è venuto addirittura, ci siamo trovati e è venuto pure a casa mia, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, ci siamo scelti e questa è una cosa molto importante. Ho scelto Perugia fin dalla prima semplice telefonata, mi andava di ritrovare quest'ambiente dove sono stato purtroppo per me e per voi verso la fine della mia carriera. Mi sarebbe piaciuto arrivare prima, ero a Genova, nel Genoa e quando mi dissero preziosi mi disse se volevo venire a Perugia non ci pensai neanche mezzo secondo però arrivai che ero già quasi un ex giocatore, quindi il rammarico era quello, il piacere di ritrovare queste mura, il piacere di ritrovare qualcuno di voi, il piacere di trovare gente che ho lasciato importante come Renzo Lucchini, quindi non ci ho pensato neanche mezza volta insomma quando mi è stato proposto di venire qua ad allenare. Sarà Stefano Capozucca, il nuovo direttore sportivo della Ternana, il neopresidente della società Nicola Guida, ha deciso il successore di Luca Leone dopo il divorzio andato in scena nella serata di mercoledì. Capozucca firmerà il contratto per dare via la sua seconda avventura con la Ternana. Dopo giorni di attesa per il closing, avvenuta inizio settimana in uno studio notarile di Roma, adesso la nuova proprietà rosso-verde corre veloce e nel giro di 24 ore ecco arrivare il primo grande cambiamento a livello societario. Un ritorno al passato perché Stefano Capozucca tornerà ad assaporare l'ambiente delle fere a distanza di 20 anni, classe 55, originario di Roma. Il nome di Capozucca legato alla Ternana soprattutto per la stagione 2003-2004, quando con Mario Beretta in panchina e una squadra di grande tasso tecnico, Jimenez, Zampagna, Frick, Borgobello e Cargià fra gli altri, le fere sfiorarono il sogno promozionale in Serie A in una stagione da due volti con un girone d'andata da primata e un girone di ritorno al di sotto delle aspettative. Poi per Capozucca una carriera divisa tra Genoa e Cagliari con un intermezzo a Livorno e Frosinone prima di quello che ormai è un imminente ritorno rosso-verde. Si chiude dunque un poco meno di un giorno la primavera rivoluzione della Ternana targata a farmaguida, con gli ultimi fatti che sembrano seguire le indicazioni del presidente, cioè lavorare bene in fretta per recuperare il tempo perduto. Adesso per Capozucca la Ternana si apre un mese di lavoro, soprattutto in ottica mercato, con tanti giocatori richiesti. In uscita, sempre attuale il forte interessamento dello Spezia per il difensore Salim Diachite, quello della Ferralpisalo per Martella, della Samp per Donnarumma e di altri calciatori richiesti in Lega Pro su tutti Damian, Ferrante e Furlan. In entrata i nomi sono quelli del difensore Stefanello e del centrocampista Besaggio. Un re alla corte di Braglia, Udo, c'è King Paul, classe 97, in prestito dal Cesena. In carriera ha 158 presenze e 36 gol. Lo scorso anno Cesena, nelle prime dieci partite, ha segnato quattro reti, poi si è infortunato e ha lasciato il posto a Spendi, che non è più uscito. L'anno prima Olbiar è esploso, 13 gol e due assist in 35 gare di campionato. King Paul, Udo, sembra calzare a pennello con gli schemi di Braglia perché si trova bene sia quando il pacchetto d'attacco e ha due, magari in un 3-5-2 o in un 3-4-1-2, o quando deve fare il riferimento centrale in un 3-4-3. Udo inizia nel settore giovanile della Regina, poi cresce in quello della Juve. Nella stagione 2014-2015 mette insieme 32 presenze e 12 gol con la primavera di Fabio Grosso. A gennaio 2016 passa a Lanciano in serie B, poi scende in C al Ponte d'Era, 17 presenze e un gol, poi alla Fermana che lo gira in serie D al Fano. A Viareggio sempre in serie D nella stagione 2018-2019 gioca 26 gare segnando 8 gol. L'anno successivo in serie C indossa la maia della Pianese, 26 partite e 6 gol per lui, poi i due anni successivi a Dolbia con 69 gare giocate e 18 reti. Per completare la rosa in casa rosso-blu adesso servono un secondo portiere, due difensori, tre centrocampisti e due attaccanti. Nella giornata di ieri ha rimbalzato il nome di Kevin Candelori nella scorsa stagione alla Fidelissandria. Mercati d'Alzassuolo è un'opzione in attacco sfumato Cioffi, Morella è una pista, il DS Migname ha effettuato sondaggi anche per gli attaccanti Busappo 2002 del Vicenza, Silipo 2001 del Palermo. In uscita i centrocampisti Corsinelli, Bulevardi e Toscano. Uscita i centrocampisti Cioffi, Mi Rai, Rimbalzato, Ciongla. In uscita i centrocampisti Ciongla. In uscita i centrocampisti Cioffi,